Che altro è un saluto che facciamo, quello come coordinamento degli istituti storici piemontesi che hanno collaborato con la società italiana di storia della sport rappresentata da Deborah nella parte organizzativa e appunto abbiamo pensato di proporre questa esperienza che avevamo già sperimentato un paio di anni fa sul territorio vercellese estendendola a un raggio più ampio e quindi partiamo oggi con un'iniziativa che avrebbe dovuto tenersi in presenza e che purtroppo per ragioni varie, insomma prima di tutto lo sciopero dei trasporti non solo dei trasporti, peraltro ci ha consigliato di fare a distanza. Quindi direi un benvenuto a tutti e appunto credo di interpretare lo spirito dei colleghi degli istituti e poi diciamo per la società italiana di storia dello sport parlerà a Deborah per ringraziarvi per aver condiviso questa nostra proposta. Grazie, a te Deborah. Allora, abbiamo voluto proporvi questo corso di storia dello sport, io faccio parte della società italiana di storia dello sport, che è un'associazione che si occupa di storia dello sport, di cui fanno parte gran parte degli storici dello sport italiani e l'idea era un po' questa, di fornirvi degli strumenti didattici. So che l'anno scorso c'è stato questo grande corso che è stato proposto, questa giornata di riflessione, di studio, proprio dal Ministero dell'Istruzione, proprio perché c'è un bisogno di formazione dei docenti e proprio per questo abbiamo pensato di proporvi questo corso e oggi iniziamo con la lezione del nostro Presidente Onorario della SIS, Felice Fabrizio. Felice Fabrizio è da considerare assolutamente il pioniere della storia dello sport in Italia, assolutamente, ma la cosa interessante è che è una persona che conosce profondamente conosce profondamente anche i problemi dei docenti, perché è stato lui stesso docente, ancora oggi collabora con una serie di istituti della Lombardia con cui realizza appunto questi progetti di storia dello sport. è una cosa interessante e che è stato anche autore di uno dei volumi secondo me più interessanti, più importanti, che è adesso uscito in due parti, con un appendice proprio per il lavoro, che troverete comunque nelle bibliografie. Il corso è strutturato così, nel senso avrete questa serie di lezioni frontali e poi vi daranno ogni docente una propria bibliografia essenziale sull'argomento, in modo che possiate fare tutti gli approfondimenti del caso anche grazie a questa bibliografia. Abbiamo pensato a un programma strutturato che va su vari ambiti, da un punto di vista segue la storia nella sua evoluzione cronologica e dall'altro lato invece segue un po' quelle discipline che hanno fatto un po' la storia del nostro paese. Fabrizio Felice, vi dicevo, è autore di tantissimi libri. Io qui ne ho alcuni che sono La leggenda dello sport milanese, grandissimo libro. Corpi per la patria di Fabrizio Felice, che è un libro anche questo interessantissimo. Fuoco di bellezza, altro libro straordinario. Troverete comunque tutti i volumi e tutto quanto nella bibliografia in modo da poter lavorare al meglio anche a casa. Poi nel prossimo anno studieremo magari insieme dei laboratori con delle attività che possiate realizzare e proporre anche all'interno delle scuole. Poi magari faremo anche un giro di mail con cui tenteremo di capire come lavorate, con quali studenti lavorate, anche per capire un po' il target con cui proporre delle attività pratiche da fare nelle scuole. Adesso io lascio la parola a Felice e intanto vi proietto io le slide. Ve le condivido un attimo. Ok, ditemi solo se le vedete. Sì. Ok, perfetto. Sì, sì. Allora, a questo punto Felice ti lascio la parola. Grazie Deborah, buon pomeriggio a tutti. Allora, mi è stato assegnato un tema che rientra nel ventaglio delle offerte che non si possono rifiutare, per almeno due motivi. Prima di tutto perché ci porta dritti dritti alle origini del sistema sportivo nazionale e la vecchia talpa della storia adora scavare in profondità per andare a rosicchiare le radici. In secondo luogo perché chiama in causa concetti che si incarnano nei corpi e lo storico è come l'orco dove avverte odore di carne umana là è la sua preda. Il campo di ricerca è sterminato anche se ho cercato di circoscriverlo nello spazio il contesto italiano e nel tempo il lungo risorgimento il periodo compreso tra il 1789 e il 1919 il periodo in cui si svolge il travagliato processo di costruzione nazionale e che coincide in pratica con una buona fetta del programma di storia degli ultimi due anni. Il corso è rivolto ai docenti e quindi ho creduto opportuno conferire al mio intervento un taglio il più possibile operativo. Procederò per flash rimandando per la ricostruzione analitica e per gli approfondimenti alla bibliografia. Imboccheremo un lungo corridoio su cui si aprono molte porte ognuna delle quali è contrassegnata da una o più immagini. Ogni uso schiude un percorso di lavoro che potrete scegliere tenendo conto di diverse variabili. Il modello di storia a cui intendete aderire la storia con la S maiuscola la storia scritta dai vincitori e nel nostro caso il vincitore è lo sport la storia focalizzata sui grandi eventi e sui grandi personaggi e sul nostro cammino ne incontreremo parecchi perché c'è una corrispondenza molto molto stretta tra dirigenza sportiva e notabilato dell'Italia liberale. Il primo di questi grandi personaggi è quello rappresentato nell'immagine zero. nel 1900 a Monza con palle tre Gaetano Bresci uccide Umberto I che reduce dal saggio della società ginnastica forti e liberi e che muore come dirà Pascoli in un'orrenda poesia guardando una schiera di giovani atleti. Ma c'è anche la storia dal basso la storia degli anonimi compagni la storia della vita quotidiana perché come aveva capito il lettore operaio di Bertolt Brecht ma anche De Gregori è la gente che fa la storia. Una seconda variabile riguarda i vostri interessi le vostre curiosità quelle dei ragazzi e le risposte che i ragazzi daranno alle vostre sollecitazioni. Un'ulteriore variabile concerne le abilità che si vorrebbero fare acquisire il lavoro sulle fonti la ricerca la selezione la critica le operazioni sullo spazio sul tempo sulla semantica la tipologia della comunicazione dei risultati infine ma è l'aspetto più importante le modalità del lavoro da programmare da attuare da verificare tenendo conto dei livelli di partenza dei tempi a disposizione delle risorse dell'eventualità di ricorrere al supporto di esperti nel testo che citava prima Deborah sulle strade dello sport troverete un campionario vastissimo di proposte digattiche che io integrerei con le suggestioni della Historia Ludens esplorata da Antonio Brusa con i suoi giochi da tavolo e da ruolo sarebbe bellissimo riuscire a a mettere insieme comunque qualcosa del genere relativo all'argomento che stiamo trattando se siete d'accordo io procederei al gran galoppo in modo da lasciare al termine del mio intervento spazio per le vostre domande e le vostre curiosità immagine 1 1833 il 21enne Rodolfo Obermann è chiamato a Torino da Carlo Alberto per addestrare fisicamente il corpo dei ponchieri successivamente il suo compito sarà esplorato ai portaglieri e agli allievi dell'accademia militare qui nasce un primo quesito anzi siamo di fronte a un vero e proprio mistero perché diavolo il Piemonte sceglie di ricorrere a un a un ragazzino che è un discreto ginnasta che si è distinto in un concorso ginnico federale svizzero a Zurigo ho cercato ovunque risposta a questa domanda ma non non l'ho trovata sta di fatto che con l'arrivo di Obermann a Torino la ginnastica la ginnastica sistematica la ginnastica moderna sbarca in Italia e con l'arrivo di Rodolfo Obermann avvio quello che qualche ottimista ha chiamato il contributo spirituale delle attività motorie al risorgimento italiano un contributo che parte molto molto da lontano dalla rivoluzione francese e dalle idee che viaggiano sulle punte delle baionette delle truppe che arrivano in Italia e che coinvolge i giacomini i patrioti gli intellettuali nomi grossi genovesi cuoco filangeri pellico tomaseo pisacane accomunati dal desiderio di riformare i caratteri con un nuovo tipo di educazione in grado di creare una coscienza nazionale nella seconda immagine vedete l'opera più celbe a parte la bellezza incredibile di questa di questa copertina l'Atlante degli attrezzi di ginnastica educativa del cavaliere Rodolfo Obermann ma al contributo spirituale si aggiunge in maniera molto molto più incisiva il contributo materiale delle attività motorie al risorgimento qui va distinta una soluzione dinastica che si affida al peso dell'esercito sabaudo l'unica forza militare in grado di agire concretamente sul territorio nazionale e l'iniziativa dal basso fatta della guerra per bande delle tecniche insurrezionali delle iniziative fallimentari di Mazzini di Pisacane e in parte anche di Garibaldi è un contributo che oltre che alla ginnastica fa ricorso prevalentemente e direi in maniera abbastanza ovvia abbastanza scontata al tirassegno nella terza immagine vedete i cacciatori delle Alpi i volontari Garibaldini che si distingueranno nelle guerre di indipendenza e immagine successiva Garibaldi Garibaldi che dopo l'unificazione nazionale si trasforma in propagandista anzi direi piazzista della causa della Santa Carabina sapete che Garibaldi è stato ovunque cioè in ogni paese italiano c'è una lapide che ci dice che lì dormì Garibaldi e questa peregrinazione infinita spesso ha a che fare con la fondazione di società di tiro a segno o di poligoni di tiro col passare del tempo l'immagine successiva questa tradizione volontaristica risorgimentale diventa sospetta di sovversivismo nell'Italia unita piena di problemi percorsa da problematiche estremamente complesse pensate soltanto al brigantaggio e alla nascita dei movimenti chiamiamoli sovversivi legati al movimento operaio e contadino dare nelle mani della gente comune delle armi non pare particolarmente commendevole quindi il tirassegno diventerà un'entità statalista centralista burocratica e la legge sul tirassegno nazionale emanata nel 1882 porrà fine a questo impulso iniziale immagine successiva nel 1844 viene costituita la società ginnastica di Torino è un momento storico perché il principio associativo viene introdotto per la prima volta in Italia nella società civile e nell'immagine successiva la palestra della palazzina dell'Eglicine al parco del Valentino diventa il sacrario il santuario della ginnastica italiana ecco qua propongo un primo percorso di lavoro estremamente interessante cioè la biografia societaria della società ginnastica di Torino che è importante non tanto per le sue vicende interne ma perché assumerà una centralità assoluta nella storia della ginnastica italiana per parecchi decenni in relazione agli indirizzi metodologici e alla formazione degli insegnanti per molto tempo Torino assumerà il monopolio della ginnastica italiana immagine successiva Obermann è un allievo diligente uno sgobbone ma non ha la minima originalità si limita a riprodurre le linee di indirizzo della ginnastica tedesca il turner il movimento creato da Jan e sistematizzato da Gutz Mutz e da Spies immagine successiva questo è uno dei turn plaz i campi all'aperto dove si addestrano i ginnasti tedeschi il turner nasce nella fase di reazione alla presenza napoleonica e assume la funzione di costruzione di un'identità nazionale che col passare del tempo assumerà precisi connotati pan-germanisti immagine successiva è una ginnastica collettiva che ha per scopo appunto il conseguimento di finalità ideologiche e politiche e e che ha in vista quello che viene chiamata la nazionalizzazione delle masse qui è fondamentale il saggio che a proposito ha scritto Moss che inserisce la ginnastica tra gli elementi costitutivi di questo processo di creazione di una coscienza nazionale che passa attraverso liturgie che si ispirano alle feste della rivoluzione francese immagine successiva spiess che è l'altro grande maestro del turner tedesco trasferisce la ginnastica dal dagli spiazzi all'aperto alla alla scuola creando un vastissimo repertorio sistematico di esercizi immagine successiva ok ecco anche qua sarebbe molto bello prendere in esame il discorso della nascita del turner della ginnastica tedesca e che è la prima delle grandi scuole ginnastiche che caratterizzeranno tutto il diciannovesimo secolo e che diventeranno il riferimento in quasi tutta l'Europa continentale questa è la ginnastica svizzera vedete che anche nell'immagine c'è c'è un'affinità evidente con il turner tedesco e dalla svizzera proviene Obermann immagine successiva la Francia questi sono gli allievi della scuola militare di Joanville immagine successiva la cecoslovacchia dove nel 1862 si costituisce un movimento interessantissimo il Sokol Sokol vuol dire falco un movimento panslavista che della cecoslovacchia si estenderà a gran parte dei paesi slavi e che vedete si basa comunque anche in questo caso sulle coreografie di massa e sulle giannastica collettiva in questa evoluzione parallela è riscontrabile una strettissima affinità l'obiettivo chiaramente è quello di disciplinare i corpi all'interno di istituzioni totali l'esercito la scuola la fabbrica l'ospedale il carcere la palestra là dove si esercita quella che Michel Foucault ha chiamato la microfisica del potere qui io consiglierei una ricerca anche se in lingua italiana non esiste un grande materiale documentario sul movimento in caso lambisce il confine orientale italiano perché Socol arriva si insedia si impianta e si sviluppa anche a Trieste e a Gorizia e farà parte soprattutto a Trieste di quella battaglia tra diverse comunità nazionali che contraddistinguerà questa città immagine successiva siamo di fronte a una ginnastica che ha chiari connotati militari è una ginnastica che non è mai fine a se stessa ma che persegue altri obiettivi e che si fonda sul principio dell'autorità sulla catena comando obbedienza immagine successiva ed è questo tipo di ginnastica che prende piede nella scuola italiana quando nel 1878 Francesco De Santis ministro della pubblica istruzione emana una legge che decreta l'obbligatorietà dell'insediamento della ginnastica immagine successiva questo è il testo della della legge De Santis immagine successiva la storia della ginnastica scolastica italiana è una storia di discorsi sul corpo di fiumi di parole di commissioni su commissioni ma la realtà è molto diversa mancano le strutture questa è la palestra di una gloriosissima società ginnastica italiana la mensara di Siena e la palestra è ricavata da un'antica chiesa sconsacrata come avverrà molto spesso per quanto riguarda questo periodo mancano gli attrezzi mancano i soldi mancano insegnanti preparati motivati valorizzati e questo tipo di ginnastica si caratterizza per la sua subalternità rispetto a tutte le altre discipline per il suo formalismo per la noia che è in genera e per la sua totale anaffettività immagine successiva la metodologia prevalente resterà quella della terrificante ginnastica tra i banchi immagine successiva qui sarebbe vivamente consigliabile un approfondimento sull'insegnamento scolastico della ginnastica in Italia per quanto riguarda i programmi che varieranno molto spesso nel tempo senza comunque introdurre particolari novità di rilievo in relazione alla formazione dei docenti e qui se ne trovano parecchi soprattutto nel bellissimo libro di Patrizia Ferrara Italia in palestra sui resoconti statistici in quante scuole viene attuato l'insegnamento della ginnastica in che modo con quanti allievi con quanti insegnanti immagine successiva la constatazione del fallimento conduce alla ricerca di un metodo nazionale e innesca una serie infinita di polemiche che contrappongono in modo particolare il polo torinese e il polo emiliano veneto qui vedete alcuni degli esponenti del polo emiliano veneto Pietro Gallo Domenico Pisoni Costantino Reier ed Emilio Bauman immagine successiva l'autentica eminenza grigia che verrà poi nominato ispettore per l'insegnamento della ginnastica in tutte le storie del regno resterà comunque Felice Valletti che è un pilastro della società ginnastica di Torino immagine successiva questo è Emilio Bauman creatore del metodo italiano della ginnastica naturale che in realtà non presenta elementi particolari particolarmente innovativi rispetto ai modelli preesistenti ma comunque si sforza di adattare le metodologie al carattere all'indole degli italiani immagine successiva un riflesso di queste polemiche di queste vere e proprie battaglie si trova in quel piccolo gioiello che è Amore ginnastica scritto da Emilio De Amicis nel 1892 in cui troverete il resoconto di uno dei congressi ginnastici quello di Torino in cui Bauman e i torinesi si affronteranno all'ultimo sangue dal libro di De Amicis parentesi De Amicis è un autentico genio De Amicis capta a tutto quello che c'è di nuovo in giro per l'Italia e lo mette sulla carta la scuola il libro cuore l'esercito vita militare i mezzi pubblici la carrozza di tutti l'emigrazione sull'oceano la ginnastica Amore esce a fare dal libro di De Amicis è stato tratto un mediocre film in cui l'aspetto più positivo è la visione delle forme procaci di Senta Berger ecco qua ci possono essere due possibili percorsi di ricerca uno il discorso su Bauman e sul metodo naturale e il secondo è il discorso di amore ginnastica che è in realtà una storia d'amore pervasa da un sottile e inaspettato erotismo ma che ha sullo sfondo comunque la vita quotidiana degli insegnanti di ginnastica margine successiva fuori dalla scuola e fuori dall'esercito che sono le uniche due istituzioni che attraversano l'intero corpo sociale iniziano a costituirsi le società ginnastiche che si inseriscono nel progetto ambizioso di fare gli italiani ecco questa immagine mi sembra particolarmente emblematica cioè con questa Italia che troneggia con la scritta volere potere con i saluti militari con la fanfara con i bambini cioè c'è tutta l'Italia che viene chiamata a contribuire a a questo compito necessario immagine successiva le associazioni ginnastiche si riuniscono in una federazione che è la prima federazione tra virgolette sportiva italiana dico tra virgolette perché la ginnastica a lungo tempo si considererà nemica mortale dello sport la federazione ginnastica viene costituita nel 1869 a Venezia e avrà una vita particolarmente travagliata come accadrà a tantissime altre istituzioni che hanno a che fare con le attività motorie in Italia è una è una caratteristica comune lo scissionismo i contrasti spesso personalistici spesso legati a meschine rendite di potere sta di fatto che nel 1874 la federazione si scinde ancora una volta Torino si contrappone a Venezia e a Bologna e la riunificazione faticosa e contrastata avverrà soltanto nel 1887 e un'identica frammentazione si verificherà anche nelle associazioni corporative che riuniscono gli insegnanti di ginnastica che sono almeno cinque e anche nel panorama della stampa specializzata immagine successiva ecco ecco questo è il bollettino della federazione ginnastica italiana che spicca in un panorama ricchissimo di pubblicazioni di questo genere che spesso svolgono un'opera preziosa di aggiornamento di informazioni ma che molto spesso sono soltanto tribune per capiscuola che si sparano addosso qui c'è solo l'imbarazzo della scelta per chi voglia approfondire questo tema allora è possibile prendere in considerazione l'evoluzione quantitativa e la distribuzione sul territorio delle associazioni da cui risulterà uno scarto evidente tra l'Italia settentrionale e in parte quella centrale ed Italia meridionale un'altra cosa molto molto utile potrebbe essere soffermarsi sulla storia sulla biografia di una delle tante associazioni ginnastiche centenarie e chi vuole fare un lavoro di questo genere deve comunque fare appello al ricchissimo materiale che mette a disposizione l'Unione Nazionale delle Associazioni Sportive Centenarie e si rende racconto che la società ginnastica non tanto nelle città quanto nelle località di medie e di piccole dimensioni svolge una serie di funzioni poliedriche assolutamente fondamentali risultando spesso il più importante punto di aggregazione per la società civile si può anche prendere in considerazione visto che il panorama è estremamente ricco il discorso delle forme e dei contenuti della stampa specializzata immagine successiva finora abbiamo parlato della ginnastica ma di cosa parliamo quando parliamo di ginnastica non di un monolito ma di un prisma che presenta diversissime sfaccettature esiste una ginnastica acrobatica che è quella professionale dei saltimbanchi degli artisti da circo ma anche di alcuni ginnasti appartenenti alle associazioni che la praticano in occasione di spettacoli allestiti a scopi propagandistici o per raccogliere fondi per iniziative benefiche immagine successiva esiste la ginnastica terapeutica concentrata in particolare sulla cura dei bambini rachitici immagine successiva esiste una ginnastica che noi oggi diremmo molto vicina a quella che si chiama protezione civile i pompieri le misericordie le ambulanze quindi un addestramento fisico che renda in grado gli elementi di intervenire con efficacia la ginnastica ad esempio svolgerà le società ginnastiche i ginnasti svolgeranno un ruolo di primo piano in occasione del disastroso terremoto di Messina del 1908 immagine successiva la ginnastica femminile queste sono gli allievi della società ginnastica di Torino immagine successiva ecco ho scelto questa immagine perché mi sembra particolarmente significativa notate l'epa straripante dell'istruttore sulla destra e la catatonia delle ginnaste schierate sull'attenti sullo sfondo come tanti come tante soldatine immagine successiva mettete a contrasto le immagini che avete visto prima soprattutto la prima queste ragazze vagamente danzanti aggraziate con la virilità la forza che invece promana dalla immagine maschile immagine successiva la ginnastica femminile è uno dei rarissimi ambiti dove anche in Italia viene praticata la ginnastica svedese la ginnastica svedese è l'unica forma di ginnastica che sfugge alle suggestioni del turnern tedesco è una ginnastica molto particolare che si richiama a una visione che noi oggi definiremmo olistica ispirata addirittura alla filosofia e alla medicina cinese e che ha come scopo prioritario quello salutistico immagine successiva qui qui siamo alla pre-storia di quella che oggi si chiama ginnastica ritmica qui siamo alla società ginnastica di Torino la ginnastica ritmica nasce con un'altra definizione viene definita ginnastica espressiva ginnastica callistenica e segue un percorso che dai capiscuola dal Croce e del Sart passa in quella straordinaria figura che è quella di Isadora Duncan e qua per esempio un bel discorso sulla ginnastica femminile nella scuola nelle associazioni legata all'immagine identitaria rappresentata dai gesti dai movimenti dall'abbigliamento sarebbe quanto mai opportuna immagine successiva infine la ginnastica è un terreno di scontro per il controllo della formazione delle giovani generazioni uno scontro che contrappone lo Stato liberale alle culture antagoniste che non verranno assorbite per molto tempo nel disegno complessivo da un lato abbiamo quelli che vengono definiti ricreatori laici luoghi educativi e ricreativi di ispirazione massonica immagine successiva per combattere per combattere la terribile idra massonica i cattolici il movimento cattolico comincia a dare forma a una sua ginnastica immagine successiva che troverà addirittura il sostegno del Papa qui siamo a un saggio ginnico che nel 1905 viene eseguito nel cortile del Vaticano è un uno scontro durissimo da una parte c'è la federazione ginnastica laica anticlericale massonica i dirigenti della federazione ginnastica sono quasi tutti massoni dall'altra il movimento cattolico i cattolici cercano disperatamente di ottenere visibilità e riconoscimento da parte della federazione ma nel momento in cui si rendono conto che questo non è possibile andranno a costituire nel 1906 una loro federazione autonoma che si chiamerà federazione delle associazioni sportive cattoliche italiane FASCI cioè un nome non particolarmente comunque e qua il discorso sul movimento sportivo cattolico le fonti di ispirazione i cattolici avranno una serie di ideologi andranno a pescare nel pensiero di quello che viene chiamato cristianesimo muscolare britannico e in un personaggio italiano padre Giovanni Semeria che invece è un convinto sostenitore delle virtù educative dello sport immagine successiva siamo all'educazione fisica questo signore è John Locke che nel 1693 nei pensieri sull'educazione usa per la prima volta l'espressione educazione fisica nell'ambito di quella che viene chiamata teoria dell'indurimento debitrice del pensiero di Rousseau ma siamo di fronte a una di quelle illusioni ottiche molto frequenti nella storia delle idee Locke definisce qualcosa che esiste da molto tempo immagine successiva quest'arte è nostra l'educazione fisica come la danza la scherma l'equitazione è figlia del pensiero umanistico italiano e del grande sogno rinascimentale il suo alfiere sarà Vittorino da Feltre che nel 1423 istituirà a Mantua la casa giocosa luogo di sperimentazione del concetto di educazione fisica immagine successiva l'apostolo dell'educazione fisica italiana è Angelo Mosso un illustre fisiologo piemontese Mosso che rispetto ad altri intellettuali italiani ha un'apertura mentale e una conoscenza molto più ampia Mosso ha viaggiato è stato in Gran Bretagna è stato negli Stati Uniti ed è rimasto molto colpito dal modello sportivo britannico e statunitense propugna una forma mista che integri la ginnastica i giochi all'aria aperta di sport di squadra se vogliamo seguire l'itinerario del concetto di educazione fisica dobbiamo dare delle date la data di partenza è il 1892 quando Mosso sulla nuova antologia pubblica un articolo la riforma della ginnastica che creerà non poche polemiche nel 1894 immagine successiva pubblica la riforma dell'educazione nel 1896 viene costituito un comitato centrale nazionale per l'educazione fisica e i giochi ginnastici nelle scuole e nel popolo che due anni dopo costituirà una sezione femminile nel 1898 viene istituita una commissione per l'educazione fisica creata dal ministro Ferdinando Martini che per la prima volta in ambito scolastico sostituisce alla parola ginnastica quella di educazione fisica tutto questo sforcerà nel 1909 nella prima legge organica sull'educazione fisica scolastica la legge che va sotto il nome di Rava Danieo Credara una legge sulla carta ottima ma che come era avvenuto in precedenza si scontrerà poi con una realtà dei fatti che non ne permetterà la piena e soddisfacente attuazione qui ci sono parecchie piste di ricerca allora la prima sicuramente ha a che fare con la figura di Mosso che è una figura estremamente interessante la seconda ha a che fare con il repertorio di giochi ginnici che vengono introdotti nella scuola e nella società civile tra 1893 e 1894 vengono istituiti a Udine e a Rovigo dei campi di gioco che sono i primi da questo punto di vista in Italia un'ultima pista molto stimolante è lo scontro virulento tra Mosso e Bauman per darvi un'idea nel 1906 Bauman pubblica un libello che ha come titolo l'iliale l'educazione fisica e le panzane del professor Mosso immagine successiva i nobili ideali educativi pedagogici dell'educazione fisica finiscono presto col cedere il passo alla deriva militarista e nazionalista che prende a modello i bataillons scolaires sorti nel 1882 nella Francia della revanche la rivincita dopo la batosta subita nella guerra franco-prussiana immagine successiva in Italia questa visione è pienamente funzionale ai progetti reazionari che vengono elaborati sullo sfondo della crisi di fine secolo e che hanno come interprete principale Crispi il primo uomo del destino nella storia italiana che intende rigenerare la nazione trasformandola in una gigantesca caserma e chiama a collaborare a questo intento la ginnastica e soprattutto il tiro a segno immagine successiva l'espressione più compiuta di questa nuova volontà è la lega per la nazione armata mediante le palestre marziali costituita nel 1890 a Bologna da un colonnello ex volontario garibaldino Emilio Bertet appoggiato ad Bauman Reier Gallo è in sostanza un revival del mito della nazione armata del cittadino soldato di origine francese e ripresa soprattutto dalla Svizzera che rappresenterà per l'Italia costantemente anche per i contratti molto frequenti tra il movimento ginnastico e sportivo italiano e quello elvetico un punto di riferimento l'ostilità della federazione ginnastica immagine successiva che ogni volta che qualche istituzione tenta di mettersi un po' peggio nello confesso del precedente è semplicemente un cambiamento della vincitura per prenderlo comporterà la fine rapida ed ingloriosa dell'esperienza margine successiva alle palestre marziali subentrano altre istituzioni nel momento in cui la nazione risorgimentale diventerà nazionalismo aggressivo nel 1905 nasce il corpo volontari ciclisti automobilisti nel 1910 la federazione nazionale sursum corda che aggrega battaglioni studenteschi questo è il celebre battaglione negrotto di Milano che si distinguerà durante la grande guerra fiancheggiati da altre istituzioni come il Touring Club italiano il Club alpino la stazione universitaria del Club alpino la Lega Navale italiana la Lega Aerea nazionale quello che viene chiamato il vario nazionalismo immagine successiva un altro aspetto di questa deriva militarista è il movimento scout il movimento scout creato da Baden Powell in Inghilterra nel 1907 sbarca in Italia per la prima volta a Bagni di Lucca nel 1910 e questo è il primo reparto italiano per merito di Sir Francis Vane il quale si contrapone totalmente all'impostazione militarista di Baden Powell e chiamerà i suoi giovani esploratori Peace Scouts Scouts della pace nel 1910 immagine successiva viene costituito il corpo nazionale dei giovani esploratori italiani immagine successiva che svolgeranno un'attività molto attiva e diffusa durante la grande guerra e nel immagine successiva nel 1916 anche i cattolici dopo molte titubanze c'era c'erano molte perplessità rispetto a un'istituzione che veniva percepita come frutto di una cultura aliena protestante daranno vita all'associazione degli scout cattolici italiani ecco questa la copertina di questo libro ci porta alla fine del percorso cioè l'educazione fisica italiana è diventata questa cioè un veicolo di addestramento bellico immagine successiva c'è un ultimo fattore che alimenta le istanze nazionaliste e sono ed è l'irredentismo redentismo che a partire dal 1890 acquista un'importanza sempre più decisiva nella vita italiana a Trieste e a Trento questa è la società ginnastica triestina con le divise guardate le divise sulla sinistra sono ricalcate sulle divise garibaldine e la vita di queste associazioni ginnastiche alpinistiche ciclistiche di canottaggio è fatta di una scia ininterrotta di scioglimenti di ricostituzioni di provocazioni di battaglie simboliche qui il piatto è ricchissimo si può concentrare sulle palestre marziali sulle espressioni nel campo delle attività motorie del vario nazionalismo sui giochi e sullo sport nella pedagogia scout sul rapporto tra attività motorie e il redentismo e per finire qui c'è parecchio materiale sulla mobilitazione delle forze sportive nell'imminenza dell'ingresso dell'Italia nella grande guerra il mondo sportivo sarà in prima linea e darà un fortissimo contributo volontario di adesione alla guerra immagine successiva sempre in relazione all'educazione fisica e finisco su questo argomento possiamo riscontrare un'altra faccia della medaglia quella che si chiama la cultura del corpo che procede dall'aggiornamento dell'immagine della mascolinità che si richiama la statuaria classica il modello di riferimento è l'Ercole Farnese conservato nei musei vaticani ed ha come alfiere Eugen Sandov il propugnatore di uno sviluppo armonioso del corpo questa visione estetica se ne aggiunge un'altra commerciale col passare del tempo la cultura del corpo diventa culturismo con le sue sale i suoi manuali i suoi attrezzi i suoi raduni i suoi concorsi immagine successiva ecco qui vedete le sale di culturismo costituite a Parigi immagine successiva scuole di cultura fisica anche questa metodo del ponnet avanti in Italia questa questa versione dell'educazione fisica ottiene scarso successo ha una vanta soltanto una figura isolata di grandissimo interesse questo è il marchese Luigi Monticelli Obizi un cultore del sollevamento pesi che nel 1890 crea il club atletico milanese nel 1902 la federazione atletica italiana perché dico che è un personaggio particolarmente interessante perché non è particolarmente frequente e non non ci si poteva attendere che un nobile frequentasse palestre e si dedicasse ad un'attività ritenuta comunque adatta a rudi muscolari proletari c'è però un altro e molto più interessante filone legato in Italia a questa cultura del corpo il cinema muto italiano sviluppa un filone interessantissimo di forzuti di personaggi mitologici e storici reclutati tra acrobati ed atleti pensate soltanto a maciste cioè i personaggi sono in linea di massima ginnasti o personaggi prelevati dai circhi equestri e qua comunque si può tranquillamente soffermarsi sulle origini del culturismo sul Marchese Monticelli e interessantissima questa cosa questo aspetto secondo me sulle immagini del cinema muto atletico acrobatico italiano in questo campo siamo veramente degli antessiniani gli americani ci copieranno con parecchi anni di distanza spero che reggiate la 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 allora andiamo avanti siamo allo sport lo sport è ovviamente una zuppa inglese che ha una serie di ingredienti i giochi popolari collettivi in genere violentissimi le attività fondate sulla violenza e sulla scommessa il pugilato le battaglie tra animali gli svaghi della nobiltà di campagna su questo impasto confuso si impone il progetto educativo delle public schools e delle università che sono chiamate a forgiare la classe dirigente dell'impero queste public schools e queste università civilizzano le attività preesistenti le regolamentano privilegiano gli sport di squadra ritenuti più idoni ad abituare al rispetto delle regole e alla collaborazione e a definire un vero e proprio stile di vita questo signore è Thomas Arnold il rettore di rugby ritenuto il massimo ispiratore di questa svolta immagine successiva ecco questo è il questi sono i giochi di squadra delle public schools ho parlato di civilizzazione ma come vedete siamo ancora ad una fase abbastanza pioneristica dovrà passare parecchio tempo perché anche questi aspetti di violenza vengano superati in margine successiva vi ho detto che si viene a formare un vero e proprio stile di vita che troverà la sua consocrazione nel 1857 in un vero e proprio best seller dovuto a un altro ideologo del sport inglese Thomas Hughes i giorni di scuola di Tom Brown margine successiva si definisce quello che possiamo chiamare modello vittoriano di sport e che ha due pilastri una dirigenza questo è il primo comitato olimpico internazionale una dirigenza composta da notabili vecchi signori con barbe e baffi militari e notabili margine successiva e come praticanti giovani sani agiati bianchi cristiani una cittadella feriamente presidiata qui sicuramente è interessantissimo sviluppare il discorso sullo sport nelle public schools su Tom Brown sul ruolo dello sport nel processo di civilizzazione a partire dal saggio fondamentale di Norbert Elias che studia la civiltà delle buone maniere e la collega anche alle attività motorie se volete si potrebbe fare un lavoro in controtendenza cioè questa immagine idilliaca delle public school dell'autogestione dell'autocontrollo e quanto mai fasulla le public school sono veri e propri infermi se volete vedere un'immagine che capovolge completamente la prospettiva vi consiglio la lettura di La solitudine del maratoneta di Alan Sillitor e del bellissimo film che ne ha ricavato nel 1962 Tony Richardson gioventù amore e rabbia dove il protagonista al momento di di vincere si ferma lascia passare avanti l'avversario perché rifiuta la logica che sovraintende al meccanismo un altro aspetto interessantissimo è cosa distingue lo sport moderno rispetto a tutte le tecniche del corpo antecedenti e qui bisogna per forza ricorrere al saggio epocale di Alan Goodman e infine la domanda delle mille pistole perché lo sport nasce in Gran Bretagna perché la Gran Bretagna ha un vantaggio competitivo sotto tutti i punti di vista politico culturale economico io direi di sì e chiamerei in causa il vecchio Marx il quale dice il paese più industrializzato non fa che mostrare a quello meno sviluppato l'immagine del suo avvenire e questo ci dimostra come il modello sportivo inglese sia destinato a permeare tutti gli altri modelli immagine successiva in Italia in Italia lo sport entra attraverso diversi canali uno sono le comunità dei residenti inglesi piccole ma molto appariscenti e molto prestigiose sono concentrate soprattutto a Firenze a Roma in Liguria a Napoli a Palermo e per esempio a Roma sono gli inglesi ad introdurre la caccia alla volpe che non c'è quasi mai e quindi si caccia qualunque cosa sia dotata di quattro zampe avanti questo è il club di golf di Firenze Firenze è un'autentica un club inglese esistono libri bellissimi su quelli che sono stati chiamati gli anglo fiorentini cioè a Firenze gli inglesi costituiscono una città nella città completamente autosufficiente e in campo sportivo hanno il loro club di golf il loro club di tennis avanti un altro approdo è quello dei porti quello che viene chiamato il calcio dei porti marinai inglesi che affrontano in partite informali i locali e finiscono poi col costituire delle squadre questo è l'anglo panormitan football club la prima squadra di calcio di palermo e poi ci sono una serie di figure isolate di chiamiamoli missionari tecnici professionisti impiegati pastori protestanti e in controtendenza gli italiani che si recano in inghilterra per studiare per aggiornarsi per acquistare prodotti che in italia non riescono a trovare avanti questa visione vittoriana che passa attraverso la mediazione francese e delinea un quadro prevalentemente maschile urbano concettualizza il termine sport nelle prime testate chiamiamole mondano sportive questo è il primo giornale che nella testata introduce la parola sport 1876 immagine successiva seguito da l'eco dello sport fra l'altro notate come comunque l'attenzione viene concentrata su due attività le discipline equestri e la caccia immagine successiva lo sport illustrato ed è la stessa identica cosa vi ho aggiunto immagine successiva il primo numero della gazzetta dello sport 1896 per farvi notare come nell'arco di primi giornali mondano sportivi risalgono nel 1876 il primo numero della gazzetta è del 1896 nell'arco di 20 anni abbiamo un vero e proprio cambio di paradigma cioè la gazzetta dello sport è un giornale sportivo polisportivo che si sofferma sulle attività agonistiche avanti nascono le prime associazioni di programma le prime sono le società ipiche che nascono a Torino a Firenze a Napoli avanti l'antichissima società delle regate di Belgirate sul lago Maggiore 1858 che è un club velico avanti la gloriosa società di canottaggio Cerea di Torino avanti il Veloce Club di Firenze e questo è il Veloce Club di Milano che nascono a distanza di un mese una dall'altro nel 1870 sono le prime società ciclistiche italiane avanti nascono le prime competizioni regolari la regata dei canottieri di Torino 1865 avanti la corsa ciclistica Firenze Pistoia 1869 vengono allestiti i primi campionati nazionali avanti campionato nazionale di ciclismo su pista 1884 e poi campionati di canottaggio 89 podismo e sollevamento pesi 97 calce e nuoto 98 lotta 99 e le prime federazioni la federazione nello sviluppo del modello sportivo ha un'importanza fondamentale per il suo ruolo regolamentatore di definizione dei programmi dei calendari quindi la prima federazione sportiva è l'unione velocipedistica italiana 85 poi seguono il roving che è il canottaggio il low tennis 89 il football il podismo il nuoto la tredica pesante avanti gli impianti per gli impianti si passa dagli ambienti naturali agli ambienti artificiali dalle strutture provvisorie alle strutture permanenti dalle strutture specializzate a quelle polivalenti dalle strutture specializzate le più diffuse le più importanti sono gli sferisteri dove si gioca pallone pallone non è il calcio gli ipodromi i velodromi gli stadi e tra quelle polivalenti due autentiche cattedrali nel deserto lo stadium di Torino e lo stadium di Roma costruiti nel 1911 due mastodonti in grado di ospitare 70.000 spettatori in un contesto dove una struttura del genere non serve assolutamente a nulla immagine successiva ecco questo è il gigantismo del vengono costruiti nel 1911 perché c'è il cinquantenario della unificazione italiana avanti lo sport allo stato nascente è un abito double face da una parte ci sono gli sportivi raffinati mondani che amano esibire la loro ricchezza sulle tribune degli ipodromi che praticano le discipline queste la caccia a piedi a cavallo e avanti vengono incarnati nell'immagine carismatica nell'immagine pubblica attentamente curata di D'Annunzio il primo influencer della storia da prima cantore come brillante giornalista delle corse ipiche all'ipodroma delle capannelle poi mediocre cavaliere celebre soprattutto per le sue rovinose cadute e infine superuomo che si libra in aeroplano sui comuni mortali perseguendo l'ideale della vita come opera d'arte avanti e questo è l'altro aspetto questi sono i tre più grandi ciclisti italiani dei primi anni del novecento i tre moschettieri Galetti Ganna Pavesi tre proletari tre disperati che utilizzano lo sport come modo per guadagnarsi da vivere come ascensore sociale praticando un professionismo che viene aspramente stigmatizzato da un mondo che continua a rimanere ancorato agli ideali amatoriali avanti lo sport femminile lo sport femminile per riuscire ad affermarsi dovrà superare una serie di ostacoli particolarmente impegnativi retti da un principio l'aderenza ai precetti morali e agli stereotipi di genere quindi alle donne vengono richieste grazia eleganza e soprattutto pudore si richiede che pratichino attività prive di particolari risvolti agonistici che possano turbare la loro imperturbabilità e quindi la istituzione e la sportivizzazione dello sport femminile sarà lenta e contrastata avanti queste sono sempre gli allievi della società ginnastica di Torino che praticano senza lasciare praticamente un millimetro di epidermi le scoperta il divertentissimo gioco del croquet avanti questa è un'autentica sportiva ed è io direi un'atleta fenomenale perché se guardate bene sta effettuando questo bellissimo salto montando all'amazzone immagine successiva ecco la donna non poteva montare a cavalcioni perché questo tipo di monta veniva ritenuto particolarmente osceno e non scendo nei particolari la stessa stigmatizzazione riguarderà le prime cicliste avanti ho parlato di cicliste queste sono un altro gruppo di disperate sono le signorine cicliste che attorno al 1910 si inseriscono in un piccolo circuito professionistico dove competono per premi da fame per cercare di sottrarsi della loro vita di disperate a questo gruppo di signorine cicliste apparterrà anche Alfonsina Strada qual è che nel 1924 sarà la prima e unica donna a prendere parte al Giro d'Italia avanti qualche possibile percorso il primo è assolutamente fondamentale è seguire l'itinerario dall'origine alla concettualizzazione all'arrivo in Italia della parola sport che è una parola latina che poi segue un percorso intricatissimo e ritorna al punto di partenza un altro discorso molto interessante è andare ad esaminare anche soltanto limitandosi alla prima pagina o alla testata le forme e i contenuti delle prime riviste mondano sportive un'altra cosa interessantissima allora la ginnastica e l'educazione fisica hanno un preciso evento fondatore la ginnastica in Italia nasce nel 1833 Obermann o nel 1844 società ginnastica di Torino l'educazione fisica nasce tra il 1896 e il 1898 introduzione del termine educazione fisica nel nel dei programmi scolastici ma lo sport quando nasce esiste un evento fondatore si potrebbe bandire un concorso per stabilirlo e sarebbe molto bello poi come si fa in queste occasioni progettare un francobollo commemorativo si può delineare una cronologia dello sport italiano allo stato nascente associazioni federazioni campionati si può soffermare sulla distribuzione geografica delle discipline delle associazioni per verificare se esistono delle vocazioni territoriali regionali si può verificare come e contrariamente a quanto è stato sostenuto per lungo tempo non esiste un ritardo italiano nella formazione del sistema sportivo se si elabora una tabella comparativa delle federazioni dei campionati nazionali tra l'Italia lasciamo perdere l'Inghilterra naturalmente tra l'Italia la Germania la Francia ci si accorgerà che non soltanto non siamo in ritardo ma in qualche caso siamo addirittura in anticipo si può effettuare una ricerca per immagini sulla nascita e sull'evoluzione degli impianti sportivi ci si può concentrare sulla figura affascinante in ogni caso che uno ne possa pensare sull'annunzio sportivo e naturalmente sullo sport femminile le attività i gesti gli abbigliamenti gli spazi i repertori finisco se riuscite ancora a reggere con l'ultima cosa allora vi ho delineato i tre protagonisti ginnastica educazione fisica e sport immaginatevi come combattenti in in un'arena la lotta è continua ginnastica contro educazione fisica ginnastica ed educazione fisica contro giochi tradizionali ginnastica educazione fisica giochi tradizionali contro sport lo sport comunque ha una serie di carte vincenti da giocare perché viene presentato e percepito come connotato della modernità questo è il il ballo sport 1897 Manzotti e Marenco è un colossal che va in scena alla scala con la bellezza di 563 personaggi in scena e che celebra le magnifiche sorti e progressive e progressive celebrate nel 1881 dal celeberrimo ballo Excelsior avanti e che dire del futurismo che attribuisce allo sport quei caratteri di vitalità di dinamismo che contraddistinguono la vita moderna questa è una delle tante magnifiche rappresentazioni di Boccioni avanti ecco questa sintesi futurista della guerra secondo me è particolarmente importante allora se guardate un attimo futurismo contro passatismo la ginnastica non c'è ma il passatismo della cultura tedesca comunque comprende anche la ginnastica pedantesca noiosa quindi la ginnastica è il passato è il futuro l'innovazione avanti ecco perché lo sport finisce con il rompere come un rullo compressore che piega alle sue logiche tutte le forme della cultura del corpo per cercare di farlo capire ho scelto un luogo particolarmente suggestivo l'arena di Milano che nasce nel 1807 dalla megalomania imperiale di Napoleone avanti viene a lungo impiegato come luogo di eventi spettacolari viene allagata attraverso le acque del navigo della martesana portate attraverso un canale dove in modo da poter far svolgere battaglie navali corse di bighe di fantini in costumi di antichi romani avanti poi diventa il luogo dei saggi ginnici collettivi avanti poi alla ginnastica si uniscono anche altre attività per esempio il sollevamento pesi e la scherma quindi è una ginnastica che comincia a fondersi con lo sport avanti poi arriva il ciclismo le corse su pista e addirittura l'arrivo della prima edizione del Giro d'Italia 1909 avanti e infine il calcio nel 1910 l'arena è teatro del primo incontro della squadra nazionale italiana che gioca con una maglia bianca e travolge per 6 a 2 altri tempi la Francia avanti un identico percorso caratterizza il bagno di Diana 1842 Milano la prima piscina pubblica italiana luogo di svago di socializzazione dove si ritrovano i borghesi italiani e qui si va dalle grandi spanciate avanti ai salti in acqua giudicati in base al grado di difficoltà e allo stile di esecuzione siamo passati dalla ludicità alla tecnica allo sport avanti ecco finiamo con questo allora tutto quello che non è sport si trova di fronte a un dilemma drammatico come comportarsi rispetto a questo nuovo arrivato tanto invadente erigere le barricate difendere la tradizione rischiare di perdere gli elementi più dotati rischiare di perdere i favori del pubblico ridursi a semplici attività di nicchia tagliarsi completamente fuori dall'attività internazionale che dopo il ripristino degli olimpiadi sta prendendo tutt'altra strada oppure arrendersi incondizionatamente al mollo sportivo troncando del tutto le proprie radici culturali oppure adeguare il vecchio al nuovo acquisendone alcuni tratti la via di mezzo è quella più battuta la ginnastica questo è Alberto Braglia il grande campione allora la ginnastica aveva sempre disprezzato l'acrobazia il campionismo il tecnicismo ma per inserirsi nel circuito internazionale per prendere parte alle olimpiadi bisognava piegarsi a queste nuove esigenze e Braglia lo farà l'altro aspetto molto particolare è che Braglia è uno dei primi esempi di atleta squalificato per aver perso il suo status dilettantistico per guadagnare un po' di soldi mette in piedi uno spettacolo in cui si esibisce assieme a un bambino un numero comico verrà comunque riammesso in tempo per poter vincere un'altra medaglia agli olimpiadi successive avanti la via di mezzo è imboccata dal tirassegno dalle nazionali solennità dei tiri assegno nazionali dell'Italia post-unitaria si passa ai veri e propri campionati con classifiche e record l'alpinismo del club alpino italiano avanti fondato da un altro dei personaggi della storia con la S maiuscola Quintino Sella famoso ministro delle finanze celebre per aver dissanguato gli italiani con l'imposizione di tasse elevatissime questo alpinismo è un impasto di svago di scienza di patriottismo avanti ecco questo è l'alpinismo l'alpinismo dei signori e delle signore che effettuano delle comode scampagnate avanti e che poi diventerà invece ecco diventa questo diventa un'attività sportiva dove la parete diventa la palestra avanti lo stesso avviene per la scherma allora nella scherma si passa dalla valutazione dei valori estetici si parla di frase schermistica statica accademica a immagine successiva alla scherma moderna atletica basata sul conteggio delle stoccate avanti all'equitazione dove si passa dai virtuosismi dei maneggi avanti alla ricerca del record questo signore che vedete è il grande Federico Caprilli l'inventore del metodo naturale di equitazione l'unico italiano in grado di imprimere un diciamo un ricordo indelebile nell'evoluzione delle tecniche sportive tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo avanti e nei nei giochi radicati nella tradizione il pallone il gioco del pallone col bracciale o il pallone elastico è stato a lungo lo diciamo tra virgolette sport nazionale italiano giocato nelle piazze vedete in maniera assolutamente informale inserito nel contesto festivo avanti per passare poi allo sferisterio al professionismo alle troupe di giocatori alla scommessa alle associazioni alle federazioni ai campionati il signore indicato dalla freccia è De Amicis un grandissimo appassionato del gioco del pallone vi ho detto prima che De Amicis ha un fiuto eccezionale infatti si accorgerà anche della nuova svolta subita dal pallone scrivendo nel 1897 questo libro bellissimo gli azzurri e i rossi avanti e la stessa evoluzione ah ecco allora qui siamo ancora al pallone sapete chi è l'ultimo signore sulla destra è Beppe Fenoglio che arriverà qualche anno dopo ma che sarà un grandissimo appassionato del gioco del pallone avanti la stessa evoluzione subiranno il tamburello altro sport molto diffuso avanti e il gioco delle bocce avanti un ecco finisco dicendo dicendo questo allora per l'eterogenesi dei dei fini avviene che la federazione ginnastica che è pregiudizialmente contraria come abbiamo visto prima alla competizione individuale al campionismo allo sport finisce per diventare madre o matrigna di una larga fetta delle discipline sportive per un motivo molto molto semplice cioè per attirare i praticanti che stanno fuggendo dalle palestre costituisce nel suo ambito una serie di sezioni sportive che abbracciano un po' tutte le discipline include gli sport individuali e di squadra nei programmi dei concorsi ginnastici e avanti nel prima gara nazionale di giochi ginnastici che ha luogo nel 1896 nel campo giochi di Treviso vengono inclusi il tennis il football e il tamburello avanti campionato nel gioco del calcio avanti e questi signori fanno parte della squadra della società ginnastica udinese che diventa campione e che per certi aspetti può essere considerata la prima squadra campione d'Italia con due anni d'anticipo rispetto al Genua che vincerà il primo campionato federale due anni dopo avanti ecco questo è è lo sport praticato dalle società ginnastiche l'innocuo tiro alla fune un salto con l'asta eseguito con una tecnica rudimentale avanti è finito va bene io penso di avermi annoiato abbastanza quindi chiuderei qua attendo le vostre reazioni d'accordo c'era qualche domanda già in chat mariella che chiedeva bauman dei ceppi bauman si si è lui è l'inventore dei famosi appoggi bauman che vengono utilizzati anche oggi nelle preste bauman ha studiato anche nella ricerca di una nuova metodologia una serie di attrezzi e questa è stata un'innovazione notevole cioè uno dei pochi settori dove non siamo debitori ad altri ad altre forme di ginnastica ecco poi marina corba chiedeva lettura e film consigliati credo siano già stati consigliati alcuni titoli qualcosa qualcosa sì però allora io poi se volete vi do i miei i miei riferimenti in modo che se volete mettervi in contatto con me o volete consultare il mio sito io sarò pienamente a a disposizione purtroppo su questo periodo per quanto riguarda l'Italia a livello di film di tematica sportiva non è che ci sia molto e poi ripeto per esempio anche amore ginnastica sì vabbè insomma non è il massimo della vita faccio faccio solo un intervento io anzi ora soltanto visto che diversi corsisti hanno chiesto possono poi avere materiali o rivedere le lezioni certamente tutto il materiale sarà messo a disposizione naturalmente diciamo la lezione potrà essere rivista da chi è iscritto al corso rispetto diciamo verso l'iscrizione che è stata richiesta quindi comunque non preoccupatevi se avete poi difficoltà di reperimento comunque possiamo anche eventualmente mandare comunque transfer o comunque cercheremo di mandare a tutti dare a tutti la possibilità di rivedere quanto è stato fatto anche a quelli che iscritti oggi però non hanno potuto partecipare a te Deborah nel frattempo io vi dico anche che Felice Fabrizio ha un bellissimo sito dove ci sono numerosi spunti per tutti i docenti e quindi vi daremo anche i suoi riferimenti in modo che possiate anche confrontarvi visto che comunque ci ho dato veramente tante indicazioni oggi direi anche dal punto di vista metodologico di come si può effettivamente realizzare i percorsi di lavoro anche con gli studenti ricordo anche che tra l'altro purtroppo non l'abbiamo ancora proiettato ma speriamo magari anche in sede del corso uno dei nostri soci ha fatto un interessante film documentario dedicato alla storia dello sport italiano e la storia d'Italia che si chiama sportiva e che riguarda tutta la storia italiana purtroppo è appena uscito poi tra una questione di covid e l'altra non l'abbiamo siamo riusciti però adesso dovremmo riuscire a organizzare una proiezione anche in Piemonte sicuramente e poi se qualche scuola vuole organizzare anche una proiezione come può essere per gli studenti siamo disponibili ovviamente Francesco mi ha detto di dirlo comunque chiaramente a tutti quanti che se avete bisogno siamo disponibili a fare le proiezioni anche a livello scolastico in modo da poter dare anche delle suggestioni proprio su questi temi della storia dello sport se c'è qualche altra domanda ma volevo aggiungere posso aggiungere una cosa se poi vi servissero altre immagini io ho un materiale sterminato per cui basta che mi diciate di che cosa avete bisogno e sarà mia premura farvelo pervenire chiedo scusa mi introdurgo io per una domanda certo intanto volevo dire che il percorso proposto mi è sembrato molto interessante e approfondito quello che mi sono chiesto ascoltando soprattutto verso la parte conclusiva no ed è appunto il motivo della mia domanda e come le Olimpiadi che sono un elemento storico verso la fine del secolo le Olimpiadi moderne così si è inserito in questa in questo contrasto tra ginnastica educazione fisica nuovi sport nascenti e credo aver capito dalle parole del professore che l'elemento e Olimpiadi rappresentava un po' la modernità e quindi trainante nei confronti degli sport soprattutto sport di squadra anche se così a seguito di una mia personale così approfondimento nel campo delle prime Olimpiadi di fine secolo di inizio secolo così mi sembra che si possano riscontrare degli elementi come dire piuttosto legati ancora a certi certi limiti che poteva avere l'attività fisica come ad esempio il fatto mi sembra che nelle prime Olimpiadi le donne non potessero partecipare o come ad esempio tra le discipline che venivano proposte ci fossero anche delle discipline tipo la corsa nei sacchi o cose del genere di ispirazione più che popolare diciamo così ecco questa era una cosa che volevo chiedere al professore se poteva approfondire un attimo cioè il ruolo in questa in questa questo contrasto tra i vari elementi delle Olimpiadi certo allora e poi e poi scusi dico solo una cosa che magari può essere di aiuto anche per gli altri che seguendo il percorso mi è venuto in mente un film che ho visto piuttosto recentemente che non è non è un film neanche troppo vecchio che in italiano è stato tradotto di produzione tedesca che in italiano è stato tradotto con lezioni di sogni ed è la storia di un professore illuminato tedesco che dopo un soggiorno in Gran Bretagna torna in Germania per insegnare l'inglese e per introdurre il gioco del calcio e viene ovviamente fortemente contrastato tra l'altro questo film si può guardare completo su YouTube e si può trovare tranquillamente non so il titolo originale in tedesco ma in italiano è stato tradotto con lezione di sogni grazie per la domanda ottima ottimo andrò senz'altro a venermi allora è un discorso abbastanza complesso per quanto riguarda l'Italia tieni conto che la nostra prima partecipazione ufficiale risale al 1906 alle Olimpiadi Intermedie di Atene noi non ci siamo nel 96 ci siamo a Parigi però le Olimpiadi di Parigi come quelle di St. Louis sono un tale macello per cui è difficile capire chi c'è chi non c'è chi sta partecipando ufficialmente o meno concordo in pieno con quello che hai detto le Olimpiadi nelle prime edizioni sono un grande pastrocchio in cui a prevalere è ancora la tradizione sono ancora sport legati agli ambienti militari che si integrano con i nuovi sport inglesi e poi c'è il discorso della ginnastica tra la ginnastica e il movimento olimpico inizialmente lo scontro è totale il presidente della federazione ginnastica europea un belga della Cuperus è assolutamente contrario all'inclusione della ginnastica nel programma delle Olimpiadi e accetterà infine a malincuore per lo stesso motivo per cui abbiamo detto anche la tradizione italiana si deve piegare alla novità un'altra cosa interessante quello che dicevi sul professore tedesco che va la storia della Germania e quella dell'Italia da questo punto di vista procedono di pari passo assolutamente nello stesso modo cioè lo scontro è tra la ginnastica il Turner da una parte la nostra ginnastica e lo sport che viene respinto più in Germania che in Italia per la sua matrice anglosassone c'è proprio un rifiuto totale un rifiuto netto quindi immagino la fatica che ha fatto questo professore per riuscire ad imporre questo gioco barbarico la stessa cosa succede succederà in Italia per quelli che cercheranno comunque di e per esempio l'ostilità della Chiesa Cattolica nei confronti dello sport di origine anglosassone ha le stesse motivazioni però se ci pensiamo la storia della Germania e la storia dell'Italia sono molto molto simili la ricerca comunque di un'identità nazionale la costituzione di uno Stato nazionale una serie di problemi grossissimi post unitari la nascita del nazionalismo in maniera molto più spiccata cioè sono proprio due storie che procedono in maniera parallela la Francia non ha questi problemi perché la Francia adotta da subito il modello anglosassone anche perché per esempio De Coubertin è un grandissimo ammiratore del progetto pedagogico inglese e su questo costruisce comunque gran parte dell'ideologia olimpica altra cosa che dicevi le donne cioè le donne vengono ammesse nel 1908 per la prima volta però soltanto in alcune discipline ma ufficialmente cominciano a competere soltanto dopo la prima guerra mondiale quindi c'è un ritardo enorme anche da questo punto di vista grazie mille grazie a te senta volevo chiederle lei ha parlato ginnastica educazione fisica sport e mi è vorrei che approfondisse il concetto riguardante se non ho capito male la lotta tra l'educazione fisica e lo sport io tutto sommato la vedrei più come diciamo un superamento di quello che erano le iniziali l'iniziale movimento di ginnastica che piano piano poi si è sviluppato è andato nelle scuole e poi lo sport lo vedrei come uno sbocco più ampio come una ricerca e come un qualcosa di quasi necessario alle persone perché andava anche a riempire il tempo libero delle persone per cui è uscito da quello che era l'ambito più prettamente scolastico o riservato ad alcune persone e lo sport penso possa essere interpretato come un qualcosa che vada ad ampliare la possibilità a più strati sociali di intervenire è vero anche che diciamo su all'inizio se lei prima parlava appunto dell'influenza degli inglesi in Italia le prime squadre di calcio sono tutti quasi di giocatori inglesi di rappresentanti di commercio che hanno a che fare con però guardiamo anche alle prime società alpinistiche è vero dopo il club alpino ci sono state tante società che avevano aperto non solamente ai borghesi ma anche a non dico ai proletari ma anche alla popolazione normale di accedere a quello per cui io lo vedrei più come un prosievo cioè di un percorso che piano piano poi ha riparto i giorni nostri un'evoluzione di questo poi l'ultima cosa riguardo alle Olimpiadi ci fu un italiano ad Atene e questo quando lei parlava prima del tirassegno che gareggiò nel tirassegno con la carabina militare e poi sarebbe interessante anche una vicenda molto molto bella è stata raccontata anche da alcuni libri quella di Carlo Erolli questo Lombardo di un paese vicino di Origio vicino a Varese che si fece tutta la strada a piedi per arrivare ad Atene e dopo purtroppo non fu non fu perché era un professionista perché era un professionista perché si diceva essere un professionista non si diceva era un professionista sì però vinse vinse ti posso far vedere i premi in denaro che aveva vinto sì sì non ci credo perché vinse quella gara incredibile da Torino a Barcellona esatto e non soltanto quella sono abbastanza d'accordo su quello che hai detto io però vedrei l'educazione fisica come il tratto di congiunzione l'elemento di mediazione la ginnastica e lo sport inizialmente trovano nell'educazione fisica che cerca di tenere insieme la vecchia ginnastica i giochi e forme comunque elementari rudimentari di sport e quindi da questo punto di vista condivido è un percorso evolutivo che partendo dalla ginnastica e passando attraverso l'educazione fisica arriva allo sport concordo anche rispetto a quello che hai detto per quanto riguarda alcune attività che si popolarizzano non soltanto il ciclismo ma appunto l'alpinismo soprattutto l'escursionismo che è uno dei pochi settori dove il movimento operaio che è quasi completamente assente io non ho parlato per esempio in un movimento operaio perché in un movimento operaio non si interessa assolutamente di ginnastica nella maniera più assoluta mentre invece per quanto riguarda l'escursionismo ci sono delle iniziative estremamente interessanti quindi anche qua si tratta comunque di fornire a questi nuovi citi che si stanno affacciando alla alla società prima ancora poi di diventare protagonista in prima persona dopo la prima guerra mondiale delle forme ricreative concordo anche rispetto a quello che hai detto cioè lo sport è in grado rispetto alla ginnastica di offrire comunque occasioni di ricreazione di svago estremamente più affascinanti e divertenti di quanto potesse essere la ginnastica o gli sport tradizionali che erano molto diffusi ma erano anche piuttosto locali io prima ho parlato del pallone del tamburello delle voce che però sono attività tipicamente settentrionario dell'Italia centrale cioè se si passa sotto Roma praticamente non c'è nulla quindi non si possono considerare attività nazionali comunque concordo in pieno con quello che hai detto grazie grazie a te Posso? Certo Buon pomeriggio professore buon pomeriggio a tutti una domanda che scaturisce grazie una domanda che scaturisce da la riflessione che ha fatto su sui bollettini ufficiali delle società di ginnastica e sul processo che nasce ovviamente dal processo di transizione da l'attività di educazione fisica e chiaramente anche dall'evoluzione di tutta di tutte le società di ginnastica in attività che ovviamente hanno poi avuto una loro declinazione sportiva a me interessa capire questa cosa quando la stampa specializzata ha cominciato a togliere a togliersi di dosso l'etichetta di stampa mondano sportiva per entrare in un campo di maggiore specializzazione nel racconto e nella cronaca degli eventi sportivi questa è la mia negli anni 80 quando cominciano a comparire i primi fogli che si concentrano esclusivamente sul velocipedismo che sta diventando lo sport lo sport nazionale un'altra cosa tu parlavi di questi di questi fogli ginnastiche però si vanno ad analizzare i bollettini delle società ginnastiche più importanti si potrebbe fare un lavoro interessantissimo perché queste società soprattutto nei centri medi e piccoli svolgono una serie di funzioni assolutamente fondamentali cioè sono luoghi di aggregazione e di socializzazione insostituibili là dove spesso non c'è nient'altro molte società ginnastiche hanno biblioteche peroteche fanfare corali svolgono attività mutualistica assistenziale ecco quindi sono qualcosa di più di quello che noi oggi potremmo considerare una società sembrano quasi una 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 cosa di questo genere e quindi sono assolutamente fondamentali ecco comunque la 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 transizione dai bollettini e dai fogli sportivo mondani agli fogli specializzati passa attraverso la infatti la gazzetta nasce comunque come giornale ciclistico sostanzialmente cioè fondendo mettendo assieme fogli preesistenti mi è venuta in mente una cosa soprattutto magari per gli insegnanti di lettere prima vi ho parlato di De Amici Sedele Azzurri e Rossi e di Fenoglio sarebbe molto interessante fare una una ricerca sul gioco del pallone e la letteratura italiana partendo da Leopardi a un vincitore del pallone passando a un bellissimo sonetto di Belli che si chiama com'è che si chiama il giocatore del pallone Belli parla spessissimo del pallone come di altre attività popolari per arrivare a De Amicis e poi a Fenoglio che ne parla in continuazione cioè Fenoglio parla di pallone nei 23 giorni della città d'Alba nella Malora i parecchi racconti e Pavese ne parla nella Luna e i Falò quindi potrebbe essere molto molto interessante ora mentre per Pavese e per Fenoglio il discorso è scontato perché il gioco del pallone è proprio tipico del Monferrato e delle Langhe e anche per Leopardi perché Leopardi agisce nelle Marche che sono una delle Roccheforti pensate allo Sferisterio di Macerata che è una delle meraviglie dell'architettura italiana è uno dei monumenti più belli e nasce come Sferisterio come un altro capolavoro era lo Sferisterio Barberini di Roma ecco no no quindi vabbè De Amicis e De Amicis agisce a Torino nel momento in cui a Torino si costituiscono i primi veri e propri Sferisteri quindi no no è tutto strettamente collegato però può essere interessante comunque quella di Leopardi è una trattazione ancora molto molto aulica classica quella di Belli è vivacissima e quelle successive nascono proprio dall'esperienza diretta De Amicis passava giornate intere allo Sferisterio comunque tenete conto che gli Sferisteri soprattutto quelli di provincia non erano Sferisteri erano Bisch dove la gente per esempio il fittavolo il proprietario terriero si giocava in un pomeriggio l'intero raccolto annuale erano era una cosa di questo genere ecco quindi non immaginiamoci qualcosa di edulcorato o di romantico era una cosa molto simile comunque al moderno sport professionistico grazie buonasera prima di tutto grazie perché è stato molto interessante io sono nata in Argentina abito da quasi 20 anni qui in Italia e sono anche un po' appassionata di quello che sono i giochi tradizionali la mia domanda è questa tra i nostri giochi tradizionali quelli italiani quelli argentini c'è tanta analogia tante tante somiglianze ma li hanno portati i nostri i nostri immigrati sì io penso di sì 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 poi sono allenatrice di uno sport anglosassone che è il baseball e ho trovato non so se a lei risulta anche qualche analogia con degli sport tradizionali italiani per esempio quattro cantoni sì ma lo sport che ha le maggiori analogie è la lippa la lippa la lippa è il baseball cioè la lippa devi lanciare in aria e poi colpirla con col bastone col bastone quindi è una forma molto rudimentale pericolosissima io ho fatto in tempo a giocare a lippa rompendone infinità di vetri di teste perché era pericolosissima si giocava in strada era proprio un gioco tipicamente dell'Italia settentrionale soprattutto dell'area dell'area lombarda la lippa è proprio una specie sì ma il baseball ha una serie di antenati come l'hockey sono giochi che hanno tantissime antenati è quasi difficile dire quale sia l'origine reale va bene grazie niente viva l'Argentina grazie anche l'Italia c'era una domanda in chat di Maria Guida che chiede quando il movimento operaio fa la pace con lo sport in sostanza si comincia a interessare allo sport dopo la prima dopo la prima guerra mondiale nel momento peggiore cioè nel momento comincia ad interessarsi seriamente un paio d'anni prima di essere spazzato via dal fascismo e lo fa in maniera molto molto seria perché mette in piedi una serie di attività in modo particolare quella cosa incredibile che si chiama associazione proletaria per l'educazione fisica di Milano da cui provengono addirittura campioni olimpici campioni olimpici di sollevamento pesi lo fa tardi e lo fa con tutti i limiti e i difetti del movimento operaio italiano diviso spaccato polemico incapace cioè non riuscirà mai a costituire una federazione proletaria unitaria e quindi procedendo divisi verranno poi fatti fuori uno dopo l'altro in maniera violenta oppure ricorrendo soltanto alle chiusure prefettizie o per legge sì non c'è non c'è nulla cioè prima c'è proprio l'ostilità più totale il giovane Mussolini predicava spargere di chiodi le strade del Giro d'Italia comunque assolutamente i giovani socialisti la federazione giovanile socialista considerava lo sport fra i massimi maggiori nemici perché distraeva comunque i giovani dalla lotta di classe dall'impegno sindacale era un po' questo è soltanto il riformismo soprattutto il riformismo turatiano milanese che che produce una serie di iniziative che però non hanno niente a che fare con la ginnastica o con lo sport piuttosto con l'escursionismo con queste cose un ritardo enorme e colpevole comunque se non ci sono ulteriori domande a questo punto visto che a meno che non ci sia ancora qualcuno che voglia porre qualche domanda potremmo avviarci alla conclusione visto che sono già le cinque passate che dite grazie volevo ringraziare il professore perché ha utilizzato tantissime bellissime immagini e quindi ci ha condiviso questo suo enorme fondo può essere allargato perché io che me ne faccio ce li ho perché le voglio condividere grazie ancora apprezzato tantissimo grazie i giovani i giovani effettivamente hanno bisogno di questo veicolo perché i giovani comunicano solo con immagini e quindi se non abbiamo le immagini non abbiamo uno strumento chiave per metterci in comunicazione con loro e quindi questo è molto importante grazie niente ok allora io direi che se non ci sono ulteriori interventi possiamo chiudere qui direi questa interessante lezione io ringrazio tantissimo Felice perché è stata veramente una lezione interessantissima veramente molto molto poi io trovo che tu hai sempre un bel modo di parlare molto chiaro molto diretto con tante suggestioni tanti interessi quindi veramente due anni di militare a Cuneo e poi vieni in Piemonte addirittura vieni in lavorando non puoi essere per forza con l'occasione anche per fare gli auguri di buone feste a tutti visto che comunque la prossima lezione l'avremo a gennaio e poi ricominceremo poi nuovamente con un'altra attività nel frattempo io vi ricordo sempre che vi faremo avere tutti i materiali comunque in modo che possiate tranquillamente lavorare anche a casa iniziare a verificare vedere cose anche durante le vacanze di Natale che sono uno dei pochi scogli per i docenti per riuscire a rifare qualcosa al di là del calendario scolastico piuttosto serrato a cui siete costretti e va bene comunque se avete bisogno di qualsiasi cosa qualsiasi informazione siamo a disposizione sia a Raffaella sia sono a disposizione anche come società italiana storia dello sport quindi non esitate a contattarci quindi mettiamo il mio sito visto che sono arrivate si chiama lo sport nel tempo ci trovate un sacco di materiale perché comunque ci sono tutte le lezioni gli interventi che ho fatto in giro per l'universo mondo ok ok grazie a tutti e ci rivediamo nel 2022 grazie grazie arrivederci 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 arrivederci